Ecco, questa è la scena in cui i genitori trovano il corpo di Felix all'interno del labirinto. Ciao, sono Valerio Novara. Non c'è dubbio che Saltborn sia uno dei film più chiacchierati e discussi di questo periodo. Vi ricordo, lo trovate su Amazon Prime Video e la regia è di Emerald Tennell, la stessa regista di Una Donna Promettente. Altro film molto controverso di cui abbiamo parlato anche nel nostro canale Ciacchiazione e di cui ho fatto la recensione un paio d'anni fa. Lo trovate comunque all'interno del nostro canale. Oggi vi parlo di Saltborn, un film che sta facendo chiacchierare dal finale sconvolgente. Per molti ci sono almeno due o tre scene scioccanti e a detta di qualcuno che non sono mai state fatte vedere in alcun film della storia. In particolare una, ma ci arriveremo. Di cosa parla Saltborn? Saltborn è la storia di un ragazzo interpretato da Barry Keoghan che inizialmente sta in un'università, nell'università di Oxford, e all'interno della quale ci sono dei ragazzi che sono emarginati. Anche lui è un solitario emarginato e nello stesso tempo ci sono, come in tutte le università e negli istituti scolastici, anche i ragazzi che invece si divertono oltre a studiare, che fanno feste e quindi pensano solo a divertirsi, e che allontanano e emarginano anche i ragazzi più solitari. Barry Keoghan interpreta Oliver, che è il protagonista del film. Ho apprezzato tantissimo l'interpretazione di Barry Keoghan, lo sto rivalutando tantissimo, e secondo me è uno degli attori più promettenti del panorama internazionale cinematografico. All'interno di questa università lui si infatua, possiamo dire, possiamo usare questa parola? Sì, la possiamo usare, si infatua di un certo Fenix, che è un ragazzo benestante, che viene da una famiglia ricca, e con il quale instaura, inizialmente cerca di instaurare un'amicizia, fa molta difficoltà, ma riesce ad entrare nella cerchia di amici di questo Fenix, che è un ragazzo che si diverte con le ragazze, insomma ha sempre qualcuno intorno a sé, ci dice il protagonista all'inizio del film, tra ragazzi, amici, ragazzi, e lui riesce a entrare nella vita di questo Fenix, un giorno lo vede con la bicicletta che non riesce ad arrivare all'università, e il protagonista Oliver gli presta la sua bicicletta, e se la fa a piedi fino all'università, da quel momento Fenix lo fa entrare, piano piano, tra i suoi amici, e lì conosce anche Farley, che si accorge, prima di tutti, se vogliamo, di questo rapporto che comincia a diventare sempre più intimo tra Oliver e Fenix. Allora, dico la verità, la prima parte del film mi ha ricordato molto, Chiamami col tuo nome, film con Timoteo Chalamet di Guadagnino, e uno pensa subito a una storia d'amore omosessuale, però c'è quel vedo non vedo che non mi è dispiaciuto di questo film, ma in particolare in questo video voglio parlare del finale, quindi non mi soffermerò sul fatto che il film mi sia piaciuto o meno, anche se alla fine vi darò anche la mia interpretazione e il mio punto di vista su il secondo film di Emerald Fennell che alla regia abbiamo già visto, come dicevo, in Una Donna Promettente. Ci sono degli elementi in comune anche con Una Donna Promettente, ci sono degli elementi in comune anche con Parasite e con altri film, anche perché il film riprende molto il talento di Mr. Ripley e se non l'avete visto vi consiglio di recuperarlo. Dicevamo, finché i due si avvicinano, si avvicinano parecchio, Oliver rivela a Felix di venire da una famiglia disagiata, disastrata, racconta che i genitori hanno problemi mentali e con la dipendenza. Quindi Felix si prende a cuore questo ragazzo, anche se non ci viene svelato o spiattellato davanti alla faccia la sessualità dei due protagonisti. E non ci interessa nemmeno, anche perché è bello anche questo vedo-non-vedo e la sensazione che possa accadere qualcosa da un momento all'altro. A un certo punto Felix decide di invitare Oliver nella sua lussuosa villa, lussuosa tenuta di Saltborn, e quindi lo porta con sé e gli fa conoscere la sua famiglia. Ecco, in questo frangente noi veniamo accompagnati in questa villa gigantesca, sembra quasi un castello, e ci viene presentata la famiglia di Felix che sono davvero dei pazzi a partire dalla madre, interpretata da Rosamund Pike, che è veramente un'attrice straordinaria e mi piace sempre di più anche se o la mi o la ho di lei è veramente brava perché fa queste parti da stronza, pazza, da fuori di testa, veramente. E ci viene presentata la famiglia di Felix con questo padre che, insomma, sta in un mondo tutto suo, con la testa fra le nuvole, questa madre che giudica molto, è molto classista, tutto il perno del film è sul classismo e sulle diverse classi sociali e sui commenti e i giudizi che vengono fatti anche con lo stesso Oliver presente che ascolta e sente talvolta dei commenti che ci danno anche una panoramica della società attuale che Fennell sicuramente vuole far vedere. Però ho trovato anche dei momenti che sono stati un po' forzati, cioè è anche vero che nel cinema contemporaneo ti devo sconvolgere in qualche modo, sennò questi film non se li vede più nessuno. Oppure sono tutti film pesantoni che devono durare tre ore e che però la gente si addormenta. Questo film non ti fa addormentare, l'ho trovato molto scorrevole e si fa guardare anche grazie a questa trama che è molto liscia, ti svela anche troppo, secondo me ti dà anche troppe risposte, anche se c'è sempre quel vedo o non vedo del rapporto e della figura di Oliver che dice oddio. Dice oddio a un certo punto quando Felix gli dice ok ti porto a fare un giro, un giro fuori e a sorpresa lo porta nella città dove Oliver aveva detto che abitava la sua famiglia, sua madre, perché a un certo punto i due, sempre nel momento dell'università, si riavvicinano nel momento in cui Oliver dice è morto mio padre, quindi sono triste, Felix quindi per farlo riprendere lo invita nella sua tenuta di saltwater. Un giorno decide di accompagnarlo e di fargli una sorpresa ma la faccia di Oliver in macchina è tutto dire, non ci vuole andare, c'è qualcosa che non va, lì lo spettatore comincia a dire c'è qualcosa che non va, perché questo non ci vuole andare a casa dalla madre? E lo scopriamo quando arriviamo a casa dei genitori. I genitori sono entrambi vivi e sono una semplicissima coppia del ceto medio inglese, quindi anche Felix rimane un po' spiazzato e addirittura veniamo a scoprire che Oliver non è nemmeno figlio unico. A questo punto Felix dice oddio, chi sei tu? E anche lo spettatore diciamo tutti cavolo, ma fino adesso che cosa ha detto? Ha detto tutte cazzate? Cioè cominciamo a dubitare anche noi della sincerità di Oliver, anche perché all'inizio invece i pazzi sembrano sempre gli altri e noi ci identifichiamo un pochino con il ragazzo timido e introverso che si trova all'università che punta tutto sullo studio e che vuole sfondare perché è l'unica cosa che gli rimane nella vita e ci identifichiamo e diciamo guarda ci sono dei pazzi c'è quello introverso che ci sono anche delle scene alla Harry Potter nella sala del refettorio la prima volta che Oliver entra dentro questa università c'è questo ragazzo che dice noi siamo emarginati io so fare tutti i calcoli a mente chiedimi un calcolo e Oliver dice vabbè ci credo non c'è bisogno che te lo chieda e quello urla tutti in silenzio diciamo questa è una banda dei pazzi però in realtà poi ci cominciamo a rendere conto che il protagonista è il più matto di tutti come si dice a Roma quindi allora eravamo arrivati che Felix lo porta a casa dei genitori scopre la verità e ci rimane malissimo e dice ma tu cavolo sei cioè fino adesso mi hai raccontato solo balle io non voglio più che tu stia qua facciamo la tua festa di compleanno e poi te ne vai quindi a quel punto viene organizzata una mega festa di compleanno nella tenuta di Saltborn dalla famiglia di Felix per Oliver e il finale del film come vi dicevo inizia parte ci viene spiattellato nel momento in cui muore Felix e i genitori e la famiglia trovano il corpo all'interno di questo labirinto che era nel giardino nella parte esterna della grandissima della lussuosa villa di Saltborn trovano il corpo e durante la serata durante la festa ci sono una miriade di persone anche gente che Oliver non aveva mai visto che non aveva mai conosciuto e vediamo che c'è anche molta cocaina cocaina che aveva portato Farley e nella scena successiva lo scandalo che ci viene buttato davanti è che la famiglia cerca di pranzare come se niente fosse in particolar modo i genitori mentre la sorella di Felix è molto provata lo stesso Farley che accusa subito Oliver dicendo sei stato tu ad ucciderlo ancora sei qui vattene via e Oliver furbescamente risponde per quanto ne sappia sei tu che hai portato tutta quella cocaina che può averlo ucciso e il padre di Felix dice subito a Farley vattene via non ti voglio più vedere quindi il piano di Oliver è molto più suddolo di quello che sembra di quello che pensiamo perché poi ci porta in un finale molto dinamico che si fa vedere in pochissimi minuti il finale dura veramente poco però succedono tante cose perché noi vediamo che inizialmente la sorella nella vasca morta nel suo sangue il padre di Felix sconvolto dalle morti dei suoi due figli praticamente paga Ollie per andarsene e noi rivediamo col passare di qualche anno Oliver che trova un necrologio in cui viene a sapere della morte del padre di Felix a quel punto c'è un salto temporale Oliver rincontra la madre di Felix che lo invita a tornare a Saltborn e nell'ultima scena vediamo Oliver che uccide l'ultimo membro della famiglia di Felix ovvero la madre staccandole il respiratore sul letto di morte e lui inizia a ballare nudo per tutte le stanze della tenuta di Saltborn anzi c'è un'ultimissima scena che è una delle tre scene che hanno fatto più scandalo cioè Oliver che penetra letteralmente si spoglia nudo penetra letteralmente la terra della tomba di Felix un amore e odio che lui aveva già detto durante il film io ho amato e odiato allo stesso tempo questa famiglia ma il motivo principale non ce lo dice la Fennell possiamo intuirlo il nocciolo il vero significato del finale di Saltborn è che l'avidità e la brama di potere di Oliver sono molto più grandi dell'amore che possa aver provato l'infatuazione che possa aver provato per Felix o per la sua famiglia e il suo obiettivo è di diventare l'unico erede della lussuosa villa di Saltborn facendo fuori furbescamente e in modo subdolo è un mostro è un mostro se vogliamo questo Oliver che non ce lo saremmo mai aspettato dall'inizio del film che però ci viene snocciolato con il passare dei minuti la seconda scena che ha fatto più scandalo è quando Oliver insieme alla sorella di Felix si trovano sotto la finestra della sua camera e lui insomma la tocca lei ha il ciclo e lui insomma lecca il sangue ed è una scena molto forte ed è una di quelle di cui vi parlavo che non era mai stata fatta vedere in alcun film se non sbaglio quindi è una scena molto forte che fa scandalo oltre alla scena della vasca in cui c'è questo si vede proprio questa ossessione di Oliver per Felix che lo spia mentre sta facendo il bagno e si tocca si sta toccando mentre sta facendo il bagno e subito dopo mentre l'acqua scarica e va giù Oliver entra nella vasca e comincia a leccare il fondo della vasca tre scene molto forti molto potenti vorrei sapere anche da voi quali sensazioni vi hanno provocato queste scene se vi hanno scandalizzato o se avete visto di peggio nei film anche perché c'è anche di peggio ma devo dire che si sta cercando purtroppo sempre di più di scioccare e quindi di far parlare di sé anche attraverso questi gesti che forse non c'era bisogno di far di far vedere o forse sì perché ci danno piano piano gli indizi della pazzia di Oliver e lo scopriamo piano piano è quello il bello di questo film se vogliamo anche se anche stavolta c'è questo finale tarantiniano come l'ho chiamato io che adesso è alla Emerald Fennell ma che anche in Una Donna Promettente quando alla fine insomma la protagonista Gary Mulligan che troviamo anche in questo film in una piccola parte con come una delle amiche della madre di Felix altra piccola parassita che voleva buonariamente entrare nella nella famiglia entrare diciamo in possesso e vivere lì era stata allontanata e poi scopriamo che invece è morta però invece Oliver è il cattivo di turno è il vero cattivo di turno anche se anche loro la famiglia di Felix non sono proprio anche lo stesso Felix non è proprio uno stinco di santo quindi chi ha ucciso Felix che cosa gli è successo poco prima durante la festa organizzata per Oliver vediamo Felix che rivela ad Oliver mi fai gelare il sangue nelle vene ed è esattamente quello che Oliver fa a Felix all'interno del labirinto vediamo che mette qualcosa nella bottiglia gliela fa bere quindi è evidente che l'abbia avvelenato e che l'abbia ucciso lui quindi piano piano uccide tutti i membri della famiglia compresa Benisha la sorella e compresa la madre alla fine del film liberatosi di tutti i membri della famiglia il suo obiettivo è rimanere l'unico erede della villa di Saltborn che era l'obiettivo che si era prefissato all'inizio vediamo un montaggio molto forte alla fine che non c'era bisogno ma che la regista decide di farci vedere come se Oliver avesse ordito e programmato tutto questo tutto quello che ha fatto dalla bicicletta aveva già bucato le gomme vediamo che aveva già bucato le gomme della bicicletta di Felix per avvicinarsi a lui per prestargli la sua e quindi per diventare suo amico in una scena in cui non aveva i soldi per pagare i cocktail all'università aveva fatto apposta per impietosire Felix e quindi farlo avvicinare ancora di più e questa sua ossessione si conclude con questo finale in cui muoiono tutti e lui balla nudo per le stanze della villa fatemi sapere cosa ne pensate del film se vi è piaciuto credo che lo rivedremo anche agli Oscar chissà se riceverà qualche premio però è un film che non mi è dispiaciuto vedere nel panorama di film pesantoni che ci sono in questo momento dico la verità iscrivetevi al nostro canale youtube c'è a creazione seguiteci su facebook e instagram dove tutti i giorni parliamo di cinema e serie tv al prossimo video grazie a tutti